buongiorno la fondazione maurizio fra giacomo opera principalmente a milano città con la quale il suo fondatore maurizio fra giacomo nutriva un legame speciale l'impegno etico sociale della fondazione è volto a progetti concreti solidi capaci di guardare al futuro e con seria valenza sociale gap en semi è un progetto di condivisione sociale ideato da andrea amato che la fondazione ha caldeggiato da subito e a cui si dedica attivamente e con molto entusiasmo siamo felici di riproporre questo format sulla scia del successo di partecipazione alla precedente edizione e fiduciosi nel futuro di retake milano e delle nuove energie che metterà in campo con andrea è nata un'amicizia sincera chiunque lo conosca sa del suo entusiasmo della sua intraprendenza e determinazione in diversi campi e del suo impegno nel promuovere il decoro di milano e nel prendersi cura del bene comune abbiamo vissuto e viviamo tutti con preoccupazione questo prolungato momento difficilissimo determinato dalla pandemia e sentiamo la necessità di ritrovarci negli spazi aperti di rivederci di persona di partecipare alla vita della comunità nella quale e attorno alla quale tutto si sviluppa e prende corpo di andare a sentire un concerto di vedere una mostra ecco Gapensimi ci dà l'opportunità di essere di nuovo insieme scoprendo bellezze e curiosità nella città con Milano da vedere di agire con responsabile leggerezza e con un sorriso nella riqualificazione di spazi un po abbandonati all'incuria che rinascono se siano la forza e la determinazione di operare in continuità il progetto è inclusivo aperto a tutti coloro che amano Milano e che condividono lo stesso ideale mantenere preservare riqualificare spazi urbani e intervenire con attività che per quanto piccole siano significative un'occasione un'opportunità per riconoscere la dignità del fare per e con la comunità un modo per essere produttivamente più colti e vivere l'inebriante e civico senso di appartenenza concludo qui con un saluto caloroso a tutti i presenti sperando di vedervi numerosi ai nostri appuntamenti curiosi carichi di buona volontà e pronti con raschietti pernici e pennelli a tutti i presenti sperando di vederti